no a te sputtacela acqua guarda che già aveva detto l'acqua non c'è possibile a fare guarda droga l'acqua 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 e perchè sta bruciando oddio eh, te l'ho detto, si oddio Stanno andando a fuoco il palazzo, cioè l'appartamento. Stanno andando a fuoco? Sì. No, regà, regà, regà. L'appartamento stanno andando a fuoco.